Dopo cinque sedute di Consiglio regionale e un dibattito fiume, è stato approvato il testo della nuova legge urbanistica della Regione Marche. Una legge fortemente criticata dall'opposizione, ritenuta invece un punto di partenza per la Giunta a Quaroli verso un nuovo percorso all'insegna della sburocratizzazione, della tutela del paesaggio e della rigenerazione urbana nel segno del ridotto consumo di suolo. Un testo che punta ad andare in controtendenza al vecchio impianto legislativo risalente al 1992. La legge necessaria è perché la legge precedente risale a 32 anni fa, quando la programmazione era completamente diversa, le esigenze dei territori erano completamente diversi. Questa legge è una legge molto innovativa che, tra virgolette, obbligherà tutti gli enti locali della Regione Marche a rivisitare la programmazione dei propri territori, a uniformarli tra loro. Infatti prevede un nuovo piano paesaggistico entro il prossimo anno, poi prevede entro i sei mesi successivi un piano territoriale regionale ulteriormente rivisitato, nei sei mesi successivi il piano territoriale di coordinamento delle cinque province e successivamente, nei due anni successivi, anche tutti i nuovi piani urbanistici generali, cioè gli attuali piani regolatori dei comuni, che dovranno essere tutti rivisitati. Nuovi criteri che tendono in generale a prevedere un consumo di suolo minimo indispensabile, non dico zero perché zero è sempre impossibile arrivare a questo obiettivo, ma che punta molto sulla rigenerazione urbana, sul riutilizzo di territorio già utilizzato, quindi l'efficientamento energetico, il costruire sul costruito, diciamo è un po' come dire abbelliamo la nostra Regione e rendiamola più sicura di quanto già è stato, su quanto già è stato costruito, su quanto già è stato utilizzato. È una nuova fase che saprà dare le risposte e soprattutto saprà valorizzare un percorso comune e questo è il succo di questo nuovo articolato. Io non nascondo la volontà di migliorarlo laddove sarà possibile migliorarlo e di anche sistemare quelle che potranno essere le difficoltà che calando questo articolato, questa nuova legge sul territorio e nella pratica si potranno trovare. Credo che sia sinonimo di intelligenza e di volontà di anche saper umilmente mettersi a disposizione di quelle che sono le sfide complicatissime che una materia come quella urbanistica comporta. La legge entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024 ma non mancheranno le deroghe rivolte a cercare un impatto soft. Non potevamo immaginare e pensare che andando in applicazione del primo del prossimo anno tutti quanti nell'immediatezza potessero adeguarsi. Tant'è che abbiamo scaglionato nel tempo, appunto 4 anni, queste scadenze e abbiamo lasciato per i primi due anni anche una certa, tra virgolette, libertà all'amministrazione comunale di continuare i loro percorsi. Non abbiamo impedito eventuali nuovi varianti, non abbiamo impedito nuovi sviluppi sui territori perché ci possono essere tante amministrazioni comunali in questo momento che stanno portando avanti dei percorsi che andandogli a interrompere nel giro di poche settimane avremo indubbiamente fatto un danno allo sviluppo del territorio.